Il metodo che potrebbe impattare, sapendo che non possiamo cambiare in emergenza un sistema di trasporti viziato da decenni di distrazione, perché i trasporti come la scuola, come la sanità, soffrono di decenni di distrazione e di investimenti mancati, gli unici possibili interventi sono quello di modulare i picchi, far entrare una fascia della popolazione, per esempio scolastica, i liceali possono tranquillamente entrare non alle 8 e mezza, possono entrare alle 10 e mezza, uscire due ore dopo, il liceale lo può fare, il lavoratore pubblico o sta in smart working oppure può entrare un'ora dopo, dobbiamo ridurre quei picchi che sono i momenti pericolosi del trasporto pubblico, il trasporto intercomunale potrebbe essere facilitato dal recupero di quei mezzi di trasporto che sono inattivi, capisco bene che non si possono usare i bus turistici all'interno delle città, ma io vivo sulla via Flaminia e vivo una direttrice che da Viterbo va a Roma, che tranquillamente può avere un'agevolazione del picco, del trenino che è stipato in certi momenti, se accanto al trenino metti 20 pullman che magari requisisci o affitti o noleggi dalle compagnie private turistiche per esempio che in questo momento sono in totale disoccupazione perché non c'è mercato turistico e quindi quella disponibilità di bus e di autisti c'è, va recuperata a livello locale, a livello comunale, provinciale, regionale, come volete voi, ma quelle sono le soluzioni che noi possiamo immaginare.